Allora ragazzi, ciao a tutti, siamo arrivati alla fine di questo 2022, credo che sia stato un anno importante per tutti, in un modo o nell'altro, e vabbè, si potrebbero di tante cose, come è passato quest'anno, però ognuno di noi ha la sua storia, e io quello che volevo dirvi è semplicemente di augurarvi un buon fine di questo anno, che ce lo lasciamo alle spalle, ce lo scrolliamo di dosso, quantomeno ci scrolliamo di dosso quello che c'è da scrollarsi di dosso e invece farci rimanere l'insegnanza, diciamo, quello che abbiamo imparato da quest'anno. E questo per costruirci il nostro futuro, un futuro che comincia adesso, quindi io vi auguro a tutti quanti questo 2023, vi auguro a me e auguro a tutti che sia un anno prospero, un anno buono, armonico, un anno di pace, di serenità, un anno da poter costruire in modo costruttivo, un anno di consapevolezza, un buon anno. E beh, a volte sono un chiacchierone, a volte semplicemente ci sarebbero talmente tante cose statiere che è meglio lasciar stare, diciamo. Quindi vi lascio con una slide dei lavori fatti quest'anno, non tutti, qualcuno. Così tanto per una piccola ricapitolazione di cosa è stato fatto. Vi auguro a tutti un felice anno e ci vediamo il prossimo anno. Però prima voglio anche ringraziare tutti voi che guardate i miei video e che mi scrivete nei commenti, eccetera. E veramente vi voglio ringraziare perché è veramente gratificante. Mi fa molto piacere che guardate i video e che mi scrivete qualcosa o mi lasciate un like, queste cose qua. E niente, spero che ci continuiamo a vedere e statevi bene. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.